Erode, nominato tetrarca di Galilea dai Romani, aveva fatto imprigionare Giovanni Battista perché aveva condannato la sua relazione con la moglie di suo fratello. Allora, quando giungemmo all'entrata di Nain, stavano per seppellire un morto. Era l'unico figlio di una vedova. Quando Gesù vide la donna, ne ebbe compassione. Allora toccò il lenzuolo e disse, «Ragazzo, alzati!» E il giovane si alzò e cominciò a parlare. E Gesù lo restituì a sua madre. Va da lui e chiedi, sei tu quello di cui profetizzava Giovanni? Dobbiamo aspettare un altro. Maestro. Maestro. Giovanni Battista ci ha mandati a chiedere, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Dite a Giovanni quel che avete visto e udito. I ciechi vedono, gli zoppi camminano. Beati quelli che non dubitano di me. Grazie. 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 Grazie.